Mail Secure vi permette di vedere in tempo reale il contenuto di corrispondenza ai pacchi, garantendo la sicurezza del vostro personale rilevando una potenziale minaccia prima di aprirli. Utilizzando la sicura tecnologia ad onde millimetriche, Mail Secure vi mostrerà un video 3D in diretta con i contenuti. Se non siete sicuri di cosa sia l'oggetto, basterà ruotarlo da un'altra angolazione. Le minacce spedite per posta possono assumere diverse forme. Gli scanner a raggi X possono solo rilevare oggetti pericolosi, esplosivi e oggetti di contrabbando. Mail Secure può rilevarli tutti, ma anche polveri, liquidi, sostanze chimiche, aggressivi biologici e addirittura nucleari. Dato che non utilizza radiazioni ionizzanti, Mail Secure è sicuro per l'operatore ed è facile da usare. Non richiede schermature speciali o particolari certificazioni e può essere installato e messo in funzione nei vostri ambienti in meno di 30 minuti. E con il servizio EOD di Ray Secure avrete un supporto di assistenza a distanza attivo tutti i giorni a qualsiasi ora. Se non siete sicuri di ciò che state vedendo in una corrispondenza, gli esperti di sicurezza postale di Ray Secure vi aiuteranno nell'identificazione, guardando le stesse immagini che state guardando voi. Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale americano ha definito Mail Secure come tecnologia qualificata antiterrorismo. È stato il primo Mail Scanner a ricevere questo riconoscimento. Perry Sampter della Raytheon utilizza Ray Secure e sostiene che la tecnologia Ray Secure riempie un gap critico nella sicurezza postale che non è riempito dai sistemi a raggi X. Mail Secure, il nuovo standard nella sicurezza postale.